Oggi parliamo dell'olio di oliva e del perché nelle diete o comunque nell'alimentazione dei soggetti che desiderano perdere peso questo alimento viene spesso tolto o comunque fortemente limitato. Qual è la differenza fra le olive e l'olio? Nelle olive sono ancora contenute le fibre mentre l'olio è un alimento raffinato e quindi a parità di volume l'olio apporta molte più calorie delle olive proprio perché non contiene fibre. Dal momento che gli adulti non devono più crescere come i bambini l'olio è un alimento che dovrebbe essere non dico eliminato ma quantomeno fortemente controllato. Cioè bisogna misurarlo con attenzione perché sbagliare ed eccedere è facile. Pensate che un cucchiaio da tavola di olio che sono circa 10 grammi di olio all'anno sono circa 4.7 chili di grasso. Quindi ovviamente non si ingrassa di quasi 5 chili ogni anno però se vi sembra di mangiare già in modo ottimale ma non capite come mai non dimagrite probabilmente nella maggior parte dei casi credetemi è colpa dell'olio che non misurate. È vero che l'olio è un grasso da condimento migliore dei grassi animali come il burro e lo strutto per esempio che hanno una maggior percentuale di grassi saturi e oltretutto contengono colesterolo. Però comunque anche l'olio ha una piccola percentuale di grassi saturi al suo interno e quindi se siete affetti o avete avuto in passato una malattia cardiovascolare l'utilizzo dell'olio è bene che sia fortemente limitato perché altrimenti si ha a causa dei pochi grassi saturi che contiene una quota di produzione di colesterolo da parte del nostro fegato. Per quanto invece riguarda i soggetti affetti da diabete i grassi stipati nelle cellule muscolari sono la causa dell'insulino resistenza e quindi rinunciare all'olio permette di far regredire rapidamente il diabete ovviamente di tipo 2. Sono stati fatti numerosi studi sia su soggetti con diabete, su soggetti con ipertensione, su soggetti con malattie cardiovascolari e la totale astensione degli oli, di qualsivoglia tipo di olio da condimento, faceva sì che le patologie regredissero e che i farmaci venissero abbandonati o non ve ne fosse più bisogno. Sto per esempio parlando degli studi del dottor Ornish, degli studi del dottor Barnard, tutti studi che sono stati condotti in America. In Italia è molto difficile far passare questo messaggio che l'olio non sia come l'acqua, che non sia l'elisir di lunga vita. Però spero con questo video di avervi fatto riflettere.